Ciao a tutti amici d'EcoBell oggi vi faccio vedere come sostituire la lampadina G9 che performa più di 400 lumens questa è una lampadina molto molto potente e niente, sono qua in questa stanza e adesso installerò la lampadina G9 nel corpo illuminante quello che dovete fare è semplicemente andare a fissare la lampadina in questo modo perfetto ecco qua in questo modo qua questo nostro corpo illuminante adesso vedete che la luce è accesa ed è una luce molto molto brillante quindi che riesce ad illuminare benissimo questa stanza da letto ecco qua l'effetto nuovamente che si vede e niente, una volta appunto installata la lampadina potete installare al corpo illuminante il vetro satinato per completare appunto l'operazione questo è il mio vetro satinato e semplicemente dovrò andare a fissarlo in questo modo eccolo qua e poi avvitarlo ecco adesso ci sono ecco cari amici di Ecobell una volta installato il vetro satinato sul corpo illuminante sempre nella stanza vi facciamo vedere l'effetto della nostra lampadina G9 che performa più di 400 lumens adesso accenderò la luce ecco qua e vedete appunto che la luce è una luce molto molto brillante questa è la nostra lampadina G9 che performa più di 400 lumens ed è un'ottima lampadina che vendiamo su Amazon in pacchetto da 10 lampadine vi consiglio l'acquisto ecco qua e vedete qui two Grazie.